Queste sono belle parole Maria e io non so darti torto. Intanto però i ricchi ce l'hanno la roba e alla fine dei conti noi dobbiamo pure ringraziarli perché senza di loro non si potrebbe campare. Sì, i ricchi ce l'hanno la roba perché se la sono presi con la violenza e l'hanno aumentata sfruttando il lavoro degli altri. Ma come l'hanno presa così la possono lasciare? Finora gli uomini si sono fatti la guerra l'uno con l'altro, si sono tolti il pane di bocca gli uni con gli altri, ognuno ha cercato di sottomettere l'altro e di servirsene come di una bestia. Ma è tempo di finirla, a farsi la guerra non si guadagna nulla di buono e infatti l'uomo ne ha avuta di miseria, schiavitù, delitti, prostituzione e di quei salassi di tanto in tanto che si chiamano rivoluzioni o guerre. Invece aiutandosi gli uni con gli altri, andando d'accordo, amandosi, non vi sarebbero più tanti mali, non ci sarebbe più chi ha tanto e chi ha niente e ognuno starebbe il meglio che si può. Certo lo so bene che i signori non ne vogliono sapere di cambiare il sistema, abituati come sono a comandare e a vivere senza lavorare, ma noi gli daremo la possibilità di scegliere. Se lo vogliono capire, per amore o per paura, che prepotenze tra gli uomini non ve ne debbono essere più e che tutti dobbiamo lavorare, tanto meglio. Se invece ci tengono a godere dei frutti delle loro violenze e dei furti fatti da essi e dai loro antenati, allora l'è bella è capita. Con la forza si sono presi tutto e con la forza glielo toglieremo. I poveri, se si intendono, sono sempre più forti.